Poi leggi Ciao amici Siete pronti Per andare a cuore di nuovo Penso che le più contente siamo noi mamme Vogliamo far vedere questo back to school Che cosa abbiamo comprato Allora da dove iniziamo Auri Dal diario Io direi Iniziamo dallo zaino Che è il pezzo forte Dai prendi lo zaino Questo è lo zaino che ha scelto Auri Lo zaino di Minnie Avevamo pensato Dato che Auri impazzisce per questi giochini Di attaccarlo allo zainetto Va bene? Vai attacchiamolo E' dove? Qua Sono curiosa amici Ecco Così facile Per aprire e chiudere Guardate Brava Poi abbiamo preso Oltre allo zaino Cosa vogliamo far vedere? Il diario? Sì Probabilmente non servirà il diario Auri Ma è impazzita per questo di Alice Mi è piaciuto il diario di Alice Poi vogliamo far vedere i quaderni? Io faccio prima quello delle LOL Quaderno delle LOL Quello delle principesse E principesse Poi abbiamo preso Mettiamo qui man mano Poi abbiamo preso i colori Dove sono i colori Auri? Ecco i colori Non li vedi? Mamma Dimmi Posso mettere il quadro qua? Certo Anche i colori Serviranno probabilmente anche quelli a matita Ma ancora non li abbiamo comprati Poi importantissima La tovaglietta Per fare la merenda Sì E il porta merenda Significa di filare un quaderno zaino Lo mettiamo nello zaino L'ha preso di Mimmi Uguale allo zaino Mettiamo qui? Sì Mascherina Mascherina Potrebbe servire Mascherina per fare i coronavirus Esatto Poi Il pezzo forte Le 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 divise Perché Auri Ho detto le divise Mi sono bagnata Sei confusa Perché Auri non avrai il grembiulino Ma avrai le divise Le vogliamo far vedere? Sì O le volete vedere indossate? Sì Le vuoi indossare? Le facciamo vedere Intanto così E poi addosso Ok? Sì Maglietta Gondellina Ma che in realtà È un pattalloncino È un pattalloncino Maglietta Che è un po' grande No è giusta No La signora ha comprato un po' quello grande Perché lo sai Amici Non hanno quella più piccola Perché la taglia è giusta È giusto Calzini Calzini ulso tempi No sono nuovi quindi non puzzano Ah sì Poi i leggings Che metterà Quando non vuole mettere la gondellina Li misuriamo? Li volete vedere? Sì Prima la gondellina Ok Hai dimenticato qualcosa? Eh sì Cosa? Questa? Sì Vabbè Lascia sta Compagnia No Ciao a tutti Ciao Iscrivetevi al canale E attivate La campanella Dinda Ciao Ciao Ciao